Se avete avuto dei contatti, e per contatti intendo esperienze amorose, rapporti sessuali, e magari li avete avuti non protetti, dovete stare, per non protetti intendo che non avete usato il profilattico, dovete stare molto attenti, guardate, qualsiasi età voi abbiate, e avete avuto questi rapporti sessuali non protetti, vi dovete andare a fare subito l'esame, perché poi magari uno non ci pensa, ne ho avuto soltanto uno non protetto, o ho avuto il rapporto non protetto con la mia fidanzata, con il mio fidanzato, e allora non si fa neanche caso, guardate che purtroppo le malattie sessuali sono tantissime, sono tantissime ed è sempre in aumento il numero dei malati, quindi andate al più presto a farvi un esame, a farvi un controllo, non c'entra guardate che voi avete la moglie, o avete il marito, o avete la fidanzata, o siete single, se voi avete avuto rapporti sessuali non protetti, siete a rischio a voi, e mettete a rischio la vita degli altri, fatevi al più presto, gli esami, per sapere come state, e per non mettere a repentaglio la vita degli altri, e per non mettere a rischio la vita degli altri,